Il treno regionale 4325 di Trenitalia delle ore 9.25 proveniente da Cuneo. Il treno regionale 4325 di Trenitalia delle ore 9.25 proveniente da Cuneo è in arrivo al binario 1 invece che al binario 2. Il treno regionale 4325 di Trenitalia delle ore 9.25 proveniente da Cuneo è in arrivo al binario 1 invece che al binario 2. Il treno regionale 4325 di Trenitalia delle ore 9.25 proveniente da Cuneo. Il treno regionale 4325 di Trenitalia delle ore 9.25 proveniente da Cuneo. 43.26 di Trenitalia, delle ore 9.35 per Fossano, è in partenza dal binario 1, invece che dal binario 2. Ferma in tutte le stazioni. Ferma in tutte le stazioni. Ferma in tutte le stazioni. Ferma in tutte le stazioni.